Il 27 giugno del 1980, il 19 dell'Italia, in volo da Bologna a Palermo, si innabisse nel mare tra l'isola di Ponza e l'isola di Ustica. Sulle ragioni di questo incidente si fanno subito molte ipotesi. Si parla di un errore umano, di un guasto tecnico, si ipotizza un attentato, si parla di una bomba a bordo. Per molti anni la tragedia di Ustica rimarrà uno dei grandi misteri dell'Italia e per certi aspetti lo è tuttora. Ma i processi hanno permesso di individuare quella che è probabilmente un'ipotesi assai vicina alla realtà. Il 19 si sarebbe trovato quella notte sulla linea di fuoco di un vero e proprio combattimento aereo tra caccia americani, francesi e libici. In particolare un aereo della NATO, un aereo americano, avrebbe lanciato un missile per colpire un MIG libico che in quel momento per ragioni ancora non chiare sorvolava il nostro spazio aereo. Per un errore però quel missile colpì il 19 che si inabissò e con esso le 81 persone che tra equipaggio e passeggeri erano a bordo.